Lo sviluppo determinante della formazione in medicina nella nostra provincia Trento si è avuto con la nascita del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Trento circa tre anni fa. La formazione per i professionisti della salute veniva tenuta dall'azienda provinciale per i servizi sanitari attraverso la formazione continua e attraverso i corsi per gli infermieri. Prima di allora c'era, vi era e c'è il corso per i medici di formazione per i medici di medicina generale. Il corso per la formazione specifica in medicina generale che è data almeno dieci anni è gestito dalla provincia come in tutta Italia essendo un corso di specializzazione extra accademia. Dal 2021 è stato sottoscritto un protocollo tra provincia, azienda sanitaria, ordine dei medici e la fondazione Kessler per la gestione della scuola di formazione, di questa scuola di formazione. Dal 2021 la fondazione ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività amministrativa finanziaria della scuola. Attraverso una segreteria organizzativa supportiamo, dicevo, il direttivo, il suo direttivo della scuola nei compiti che ha per quanto riguarda la parte didattica e per quanto riguarda la parte di tirocini.